Essere malati di SLA e volere una vita dignitosa significa spendere, diciamo che se ne vanno almeno 4.000 euro al mese, tra tutti i medicinali, i materiali che ci servono, le persone che l'assistono, una per la mattina e una per il pomeriggio. Il fondo di disabilità gravissima. Quest'anno abbiamo rifatto l'anno scorso la domanda per quest'anno, però ancora a maggio non abbiamo ricevuto nulla. In questo momento sta succedendo che molte famiglie si sono rivolte all'associazione per denunciare una situazione molto difficile da affrontare, perché è stato interrotto in molti casi un sussidio che dal Comune di Roma arrivava per aiutarle nella vita quotidiana. Un sussidio sotto forma di assistenza, sotto forma di contributo in denaro e che non si sa perché, forse per mancanza di fondi, forse per altro, per alcuni è stato interrotto. Sono 700 euro che vengono erogate. Ci si può pagare una figura di una persona, di un vadante, di un assistente che viene. Non sembrano forse agli occhi di altri tanti, ma in realtà in situazioni come queste sono importanti. Ogni anno noi partecipiamo al bando della disabilità gravissima, che inizialmente invece non era disabilità gravissima, ma era un fondo per i malati SLA. Quindi prima noi prendevamo un assegno di 1.700 euro all'inizio della malattia di mia sorella. Adesso con la disabilità gravissima prendiamo 800 euro. L'anno scorso abbiamo aspettato 8 mesi per avere i soldi e quest'anno siamo a maggio e ancora non abbiamo visto i soldi e non si capisce nemmeno se ce li daranno. Noi non lo sappiamo quante persone siano rimaste fuori in questo momento, perché in particolare il Comune di Roma sta mancando sul fronte della trasparenza. Ha pubblicato un elenco ovviamente nel pieno rispetto della privacy, ma nessuno può dire quante di queste persone, e non lo dice neanche il Comune, abbiano visto interrotta la continuità rispetto all'anno precedente, quanti l'abbiano avuta per la prima volta e in sostanza come siano stati distribuiti questi fondi. Noi in graduatoria siamo lui, anzi in graduatoria è poco dopo il 1500. C'è stato detto che quest'anno sarebbe stato automatico, cioè dato che l'abbiamo ricevuto l'anno scorso, quindi eravamo stati rassicurati che non avremmo dovuto aspettare perché i fondi c'erano, erano stati stanziati. Per la cronaca mia sorella sta al posto 2.219, nell'ultima revisione, perché poi hanno cominciato anche a fare una revisione della graduatoria per cui c'era chi andava su, chi ritornava giù. Nella prima tranche di contributi di finanziamento non è rientrata. Poi ad aprile hanno detto che c'erano fondi per arrivare a fino a 2.297, ok? E quindi mia sorella ci sarebbe rientrata. Ma nessuno sa niente. Per quello che ho saputo io mi hanno detto che non sono arrivati i fondi. Queste famiglie vivono in un equilibrio delicatissimo, hanno raggiunto spesso grazie a questo sussidio proprio questo equilibrio in cui riescono a continuare a vivere nonostante la gravissima disabilità, il nucleo familiare riesce ad andare avanti grazie all'aiuto di personale che viene a casa e quando questo equilibrio si spezza tutto questo viene interrotto. Questo qui l'ha fatto mia sorella all'inizio della malattia e questo qui il titolo è trasformazione. Ha fatto questa cosa e se si va da questa parte verso questa praticamente lei l'ha chiamato trasformazione perché da una situazione diciamo di colori che sono più pastello, più allegri, nel quale però c'è già una nuvola nera qui e poi la trasformazione, cioè il fatto che dal punto di vista neurologico il suo cervello non gli ha permesso più di vivere in modo armonioso perché ha perso tante cose. Andrea è mio marito, quattro anni fa è stato diagnosticato con la malattia del motoneurone, quindi la SLA. Fino a quel momento era una persona sportiva, attiva, un medico, odontoiatra, quindi lavorava ovviamente molto con le sue mani. È cambiata la vita totalmente. Perché noi viviamo come famiglie una situazione che è molto grave, per cui dobbiamo assistere i nostri malati. Durante la giornata mia sorella viene medicata più volte, ci sono altre macchine che tirano fuori le secrezioni perché sennò lei avrebbe delle polmoniti. E nel frattempo dobbiamo praticamente continuamente sollecitare il comune, sollecitare i municipi, sollecitare la regione. Cioè ci sentiamo delle volte come se stessimo chiedendo le lemosina. Veramente frustrati, ecco la parola giusta. Molto frustrati perché ogni anno sembra che sia così. Cioè ti illudono, ti mandano articoli, decreti, è così quest'anno. E poi invece in realtà succede sempre la stessa cosa. Grazie. 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 Grazie.